Dopo il grande successo della manifestazione Schergino Donna, la perla della ballerina si prepara a nuovi appuntamenti per animare l'estate tra più due importanti eventi musicali. Mercoledì 5 settembre, Albano Carrilli si esibirà in un grande concerto di solidarietà, attraverso il quale il noto artista italiano intende dare il suo personale straordinario contributo alla ripartenza del territorio della ballerina, coinvolto due anni fa dal sisma che ha colpito al centro Italia. Albano, affiancato dalla sua band, proporà i suoi più grandi successi in un evento da non perdere. Altro appuntamento imperdibile sarà quello programma per il 31 agosto quando Schergino ospiterà nuovamente una delle tappe del jazz italiano per le terre del sisma. Diversi gli artisti che si alterneranno sul palco dal tardo pomeriggio in poi grazie alla collaborazione con l'associazione Visioni di Musica e sotto la direzione artistica di Paolo Freso. Inizierà il Tommaso Carazzo Trio, protagonista e vincitore del premio nazionale Massimo Urbani per solistigenza. Sarà quindi la volta di Karima, noto volto di amici e protagonista anche al Festival di Sanremo. A chiudere la serata sarà il Le Claudio e il Junior del Rosa Quartet con altri talentuosi gestisti sul palco. L'estate schegginese vede in programma anche un appunto e meglio dedicato ai più piccoli. Domenica 12 agosto ci sarà la Belle Street Art. Oltre agli eventi in calendario, il territorio di Scheggino con le sue frazioni ogni giorno offre tante occasioni per essere visitato.